Jessica, anche il tuo profilo è uno di quelli scelti, quindi riassumiamo cos'è per te l'essere amazzone. Essere amazzone è sicuramente essere guerriera, ma lo intendo più come essere guerriera, quindi combattere con la forza della mente. Credo che sia molto importante. Non dobbiamo combattere sempre con la violenza. Oggigiorno siamo sempre più abituati purtroppo ad ascoltare notizie negative. In realtà quello che serve per tutti noi, secondo me, è la positività e la positività, secondo me, si trasmette proprio con la mente. A volte anche la gentilezza nei confronti di una persona piuttosto che di un cavallo, ahimè, fa la differenza. Come si suol dire, una moneta ha la doppia faccia. Semplicemente dobbiamo scoprire il lato positivo di quella che è la vita, che sicuramente ci metterà sempre davanti a delle difficoltà. Anch'io ho chiaramente affrontato tantissime difficoltà, seppur posso considerarmi una persona, tutto sommato, fortunata. Però le difficoltà si superano, basta avere la forza del pensiero. Quindi per me amazzone è uno stile di vita e quindi è un messaggio che voglio portare a tutte le donne.